Cucina casalinga e cotoletta 7,50€. Ecco le parole d'ordine di oggi. È proprio per questo che abbiamo voluto provare il brutto natroccolo, una classica trattoria milanese da altri tempi, a due passi dalla darsena. Come in una vera trattoria che si rispetti, non è tanto il servizio ad essere protagonista quanto lo sono le proposte della cucina. Noi siamo stati a pranzo e abbiamo ordinato penne alla zucca e spaghetti, sia alla norma che al ragù. Infatti, qui mangerai letteralmente come se fossi a casa della nonna. L'ambiente informale, le tovaglie a quadrettoni, il menù giornaliero e scritto a mano su un foglio di carta, mentre il cibo è schietto, semplice e senza elaborazioni, servito in porzioni davvero oneste. Come secondo, abbiamo invece scelto cotoletta, parmigiana e salsiccia di cavallo accompagnata con purè, ma nel menù non mancano anche opzioni totalmente vegane. In generale, il clima che si respira è perfetto per un pranzo o una cena tra amici, anche se ricordiamo che non viene accettata nessuna prenotazione per il pranzo e le serate di venerdì e sabato. È cremoso, pastoso!